deadlift la parola d'ordine per oggi mercoledì 3 aprile 2019 costruiremo un set pesante di 5 ripetizioni poi 12 minuti unwrap 6 street handstand to shop 9 deadlift 30 double unders sulla grafica qui di fianco pesi e scalatura per oggi è tutto domani un altro giorno e ci ritroveremo di nuovo per un altro uomo di insieme su cper tv buona giornata